Fatture per operazioni inesistenti per un totale di oltre 3 milioni di euro, IVA e VASA per oltre mezzo milione, un imprenditore cinese arrestato, 41 indagati, disposto il sequestro preventivo di beni e somme di denaro per oltre 1 milione e 200 mila euro. Questo è il risultato di un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso. Il sistema fraudolento è stato scoperto dopo una verifica fiscale che si è stesa tra il Veneto, la Lombardia e la Toscana. È emerso che la società dell'indagato aveva attuato una frode incentrata sull'uso di false fatture, emesse dal 2013 al 2016 da 42 imprese cartiere, tutte riconducibili a cinesi. Si trattava per lo più di aziende prive di una sede in cui operare, di dipendenti, i cui titolari erano da molti anni reperibili in Italia. In alcuni casi gli amministratori delle aziende che avrebbero dovuto svolgere il commercio di abbigliamento in Lombardia in Toscana, in realtà vivevano in un'altra regione e lavoravano come camerieri presso ristoranti di connazionali.